buongiorno e benvenuti ad una nuova lezione di calendario costurale oggi lavoreremo un po' sulla forza delle spalle delle braccia e ci faremo aiutare da una banda elastica ora se avete una banda chiusa come la mia va benissimo così come se avete una banda elastica di quelle aperte fatte un po' a fascia se però non avete nei paraggi una banda elastica potete prendere due pesetti per esempio due bottiglie d'acqua due libri un po' voluminosi oppure una cintura ovviamente con la cintura il movimento sarà un po' più limitato dal fatto che non vi è la possibilità di andare ad allungarla più di un tot però va benissimo uguale quello andremo a fare sarà la seguente cosa per chi ha la banda chiusa la banda di resistenza andiamo a prendere solamente da un lembo chi ha invece quella aperta niente semplicemente la prende in maniera normale chi ha i due pesetti prende pesetti in mano chi ha la cintura prende la cintura la distanza a cui prendiamo la banda è quella delle spalle quindi prendo la banda all'incirca la distanza delle spalle le mie braccia sono dritte le spalle sono basse quello che andrò a fare sarà con la mano destra andare in diagonale verso il basso con la mano sinistra andare in diagonale verso l'alto cioè cercherò di allungare quanto possibile questa banda se non riesco allungarla completamente va bene uguale creando una diagonale per poi tornare e creare una diagonale nella direzione opposta il tutto mantenendo mi raccomando le spalle basse quindi non alzo le spalle non storco il busto mi mantengo dritto e con le spalle basse se avesse una cintura stessa cosa la tiro più di un tot ovviamente non andrà mantengo per qualche secondo la tensione e viceversa se invece ho due pesetti faccio lo stesso semplicemente muovo le braccia con questi due pesettini allora incominciamo uno due spalle basse eh tre quattro braccia sempre dritte cinque sei sette cerco di aprire quanto più possibile la banda senza necessità di arrivare agli estremi otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici spalle sempre basse dici diciasette diciotto diciannove e venti e si vanno a sciogliere bene le braccia la lezione di oggi è abbastanza tosta per le spalle in primis ma anche un po' per tutto il braccio sciolgo bene lo andremo ovviamente a rifare una volta che ho sciolto bene le braccia e anche un po' le spalle riprendo la banda di nuovo alla distanza delle spalle mi riposiziono schiena dritta spalle basse e si riparte uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici spalle sempre basse sedici diciassette diciotto diciannove e venti si sciolgono bene le braccia abbiamo un po' di riflesso del sole sulla videocamera sciolgo 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 le braccia e ci facciamo un'ultima serie da 20 ripetizioni riprendiamo la banda ultimo round uno due tre spalle basse braccia stese quattro cinque sei sette otto nove dieci e si vanno nuovamente a sciogliere bene le braccia se serve si possono fare un po' di rotazioni delle spalle ed anche per oggi la nostra lezione è terminata noi invece ci vediamo domani per una nuova lezione a Grazie a tutti.